Prego, prego, non avevo un frigo pesci i cani! Sietà, mannese! Sietà, mangiate il buono! No, 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 buono! Gioca, gioca! Gioca! Gioca, gioca! Amici, mi faccio andare a scoprire il mercato del pesce di Catania! Quante cozze ci sono a 3 euro, pezzi davvero economicissimi! Corba fresca! Corba fresca! Guarda che cozze qui, bellissime! E poi le facciamo mangiare, le apriamo, le ostiche, le cozze! Grazie! Wow, bellissime! Questo è tutto torrone! Buona giornata, ci vediamo! Ragazzi, buongiorno, volete assaggiare il pistacchio, le mani? Vieni qua, ti faccio assaggiare il pistacchio! Prego, caro! Dentro l'uva! Dentro l'uva! Melloni gialli! 1 euro ragazzi! 1 euro? 1 euro! Melloni rossi! Questo che cos'è? Il castrato! Che cos'è il castrato? Il castrato? Il castrato è l'agnello grande! L'agnello! L'agnello grande! Ah, ok! Io adoro letteralmente i mercati! Sono il vero folklore delle città! Le amo! Qui a Catania, questo mercato del pesce sembra la pigna secca di Napoli! Bellissimo! Li amo! Fa caldo a Catania! Fa caldo! Anzi! Fa caldo! Andò! Fa caldo! Andò! Fa caldo! Questo è Fico d'India! Sì! Bellissimo! Ah, già si possono mangiare così questi qua? Sì! Guardate questi pomodori, un euro a cesta! Guarda! Anche questi peperoni! Un euro! Cosa fanno? Cosa fanno? Un euro a cesta anche queste zucchine! Che prezzi qui a Catania! Amici, carne di cavallo! A Catania veramente richiestissima! Sì! Qui continua il mercato, tutto pesce! Posso fare più? Vuoi mangiare le vostre che? Vostre che? No! No! Grazie! Cosa mangi di mattina? Cosa mangi? A brioche! A brioche! Voi? Ti metto dietro! Ti metto dietro! Pomodori secchi! Che cosa vendiamo qui? Ficchi! 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 No! No! Grazie! Grazie mille! Eccoci qua! Cosa abbiamo qui? Allora, lasciamo vedere... Corate, spiccole, sette, polvi, amaro, alice, sarte, canneretti... Bellissimo! Un saluto! Un saluto! Le spezie siciliane! Andiamo alle spezie siciliane! Cristia, fatti vedere! Cristia! Buongiorno! Ci guardano su YouTube! Belle! Un saluto! Un saluto! Un saluto! Un saluto! Prezzi bassissimi! Qui al mercato del pesce di canna! Grazie ragazzi! Ciao! Ciao! Dici anche qui a Catania c'è la gassosa a coscia aperta! Si chiama come? Qua? Cersi, limone e sacco! Ah ok! Vedete? Cersi, limone e sacco! Si mette il limone così, si spreme il limone nell'acqua... Bellissimo! Questi sono limoni piccolini, quindi lime... Bicarbonato... Sale! Bicarbonato a Napoli! Ah! Quindi sale si mette? Sono 5 euro! Guarda qui quanta frutta! Bellissimo! Guarda questa strada com'è caratteristica con questi ombrelli tutti colorati... qui? Molto bello! E' il mercato! Qui c'è questa fontana! Questa è la piazza di Catania con la cattedrale e l'elefantino lì! Guardi Mazzarone, dai! Guardi Mazzarone! Guardi Mazzarone! E' banale per la 50! Prego! Questo qua che è lime? No, limone, limone! Ah, limone normale! Si, limone normale! E' piccolino! E' bellissimo! 5 euro! 2 euro! Ciao! 3 euro! Sp Veders! Ciòぁ è l'unica!